A 79 anni dall'Eccidio, l'Aquila ricorda ancora i suoi nove martiri, trucidati dalla violenza nazifascista. Il 23 settembre del 1943, Bruno D'Inzillo, Bernardino Di Mario, Fernando Della Torre, Carmine Mancini, Giorgio Scimia, Francesco Colaiuda, Anteo Alleva, Sante Marchetti e Pio Bartolini, avevano tutti tra i 18 e i 20 anni. Dopo l'8 settembre del 1943 si erano uniti ai partigiani che cercavano di respingere le truppe di occupazione tedesche. Per sfuggire da strellamenti si erano rifugiati sulle montagne nei pressi di Colle Brincioni, furono catturati dal contingente tedesco dopo una delazione e condotti nella caserma Pasquali, dove furono costetti a scavarsi la fossa e furono fucilati. Nessuno informò le famiglie e solo dopo la liberazione dell'Aquila il 13 giugno del 1944 i loro corpi furono rinvenuti e le loro spoglie ricomposte all'interno della scuola elementare De Amicis. La città dell'Aquila ha dedicato una piazza ai nove martiri aquilani nel cuore del centro, mentre un monumento funebre ne perpetua la memoria e l'esempio all'interno del cimitero monumentale. Oggi in città ci sono state tante iniziative organizzate da Amni e Comune. L'esempio di questi ragazzi è la testimonianza di come di fronte alle ingiustizie, alle guerre, agli odi, non si debba mai essere indifferenti. Non si debba girare la testa dall'altra parte, non si debba far finta di niente, non si debba pensare che aspetti ad altri risolvere le ingiustizie. Loro scelsero con coraggio e con ardore di rifiutare l'oppressione nazifascista anche sapendo quello che rischiavano e purtroppo hanno rischiato la vita. Il loro esempio è per tutti noi, per capire se ognuno di noi è capace, vedendo una ragazza che viene molestata, un giovane disabile o un nero che viene discriminato, se siamo capaci nel nostro piccolo, nel nostro mondo, nella nostra attualità di inverare il loro esempio, di essere nel nostro piccolo bravi come loro.